PINI PON GITAI PON Wow! Cos'è questa cosa enorme? È il nuovo parco di neve dei Pini Pon! E adesso che è arrivato il freddo lo costruiranno in città! Credo sia la cosa più grande e bella che abbiano mai costruito! Non sto nella pelle! Ha un sacco di cose per giocare e divertirsi! Guardate la scatola! PINI PON METTI E TOGLI Vediamo come lo costruiscono! È tutto separato in buste diverse, molto ordinato! E una busta argentata! Misteriosa! Com'è alto! Un alberello innevato! Una struttura! Altre cose! Ancora cose! Altre cose ancora! Scusa, mi puoi spostare? Non c'è spazio! Grazie! Iniziamo dalla torre a tre piani con l'ascensore Decoriamo la parte superiore Sembra una Pini Pon gigante, pronta per la neve! Mettiamole la base per farla stare dritta Guardate! Questo è uno dei piani della torre! Decoriamola con queste stelline Una scala per arrivare più in alto E queste freccette come decorazione Una e due Attenzione! Ecco le piste! Si attaccano molto facilmente Le mettiamo qui E questo è l'arrivo! È molto importante! E questo albero da attraversare E questo supporto per l'altra pista Con questa testa da pupazzo di neve così carino! Lo attacchiamo alla struttura del parco E visto che ci siamo Mettiamo la porta E un'altra porta su Guardate che piste lunghissime! Sarà divertentissimo! Un'altra porta di accesso e... Oh! È enorme! E anche dall'altro lato! Oh! E quanta neve che c'è oggi! Finiamo di decorare! Una, due, tre! Questo va in cima a tutto! Per metterci la seggiovia! Non manca niente! Yuuu! Alla sbarra di sicurezza! Hanno pensato proprio a tutto! Questo pupazzo di neve per accedere alla pista E guardate! Altre cose! In questo tabellone possiamo vedere il meteo! Un cammino con il forno per cucinare Un tavolino La barella della moto da neve La moto da neve! Un lampione carino Due slittini per le piste da neve Poi li decoriamo Un pupazzo di neve Il negozio! Nel caso ci mancassero delle cose! Guardate quante ne ha! E adesso il mio momento preferito! Mettiamo gli adesivi! Magia! Guardate come è venuto bene! Saliamo di qua! Passiamo dall'ascensore Gli occhiali da neve giganti La seggiovia e l'altra pista Un ristorante e una clinica Super attrezzato! C'è di tutto nel caso succedesse qualcosa Anche la cucina è attrezzata bene Che fame! Il tabellone del meteo si può modificare Salve signor pupazzo di neve! Com'è venuto bene? La moto da neve è pronta per le emergenze E il negozio è pieno di cose Gli slittini! Che belli! Da questa parte C'è una pista di ghiaccio Vado a pattinare Oh la busta argentata! Guardate! Mettiamo l'acqua sulla polverina e... Neve magica! È incredibile! Oh che freddo! E questa è la nostra nuova amica in dotazione con il parco Proviamo le cose con lei Vediamo vediamo Lo slittino blu Dove va? Certo! Un ascensore per arrivare alle piste E funziona! Ehi! Arriva fino in fondo! Che bello! Che bello! Fortuna che è arrivata la neve, eh? E adesso proviamo l'altra pista Oh no! È caduta! E' caduta! Ma non fa niente! Perché arrivo con la moto da neve e la barella! Brum! Brum! Beh le ho messo due gessi Non si sa mai! Mentre riposa Io provo la seggiovia Plank! 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 Ah! Com'è alta! Com'è bella! Oh! Finalmente si mangia! Zuppetta calda! Vi aspettiamo al parco di neve dei Pinipon! Ciao! Pinipon! Guitaipon! Pinipon! Pinipon! Guitaipon! Pinipon!